Il mercato del prosecco corre più di una Ferrari e i vigneti veneti non riescono a stare al passo con la domanda internazionale ed ecco che monta la polemica. La regione aveva calcolato per il 2014 una superficie evitata a prosecco di 16.700 ettari. In realtà così non è. Avepa nel 2014 ha certificato 14.271 ettari di prosecco, più altri 500 sui quali gli agricoltori vantano vecchi diritti. Ancora troppo poco, ma la regione, sottolinea l'assessore Franco Manzato, non c'entra. La regione non ha sbagliato assolutamente nessun tipo di dato, i dati sono assolutamente corretti, quelli che ha dato la regione tramite Avepa, li confermiamo e sono quelli che in qualche modo faranno fede anche per le prossime programmazioni. Che cosa è successo? Perché c'è comunque questo gap? Tre cose nella sostanza. Un aumento della domanda mondiale molto forte, una scelta di imprenditori anche di non piantare prosecco ma piantare pinot grigio e questa è una scelta che è economicamente probabilmente autonoma e quindi non possiamo intervenire. Nel 2014 è stata una stagione molto negativa per cui anche la produzione ne ha risentito e quindi anche l'offerta di prosecco nel mondo. E infatti la fotografia dei vigneti veneti parla chiaro. I produttori si sono buttati a capofitto sul pinot grigio che in pochi anni è passato da 3.000 a quasi 23.000 ettari vitati. Una situazione che invertire non è così semplice perché gli impianti di un vigneto durano dai 20 ai 30 anni. Eppure per rispondere a questo boom di richieste bisognerà procedere alla riassegnazione delle quote di prosecco. Verrà gestito direttamente dal consorzio che detterà i criteri di distribuzione, quindi una cosa molto semplice, molto normale e che vedrà la soddisfazione di tutti. Forse ha fatto pensare il fatto che il Friuli Venezia Giulia ce l'ha fatta prima di noi ad arrivare agli obiettivi preposti. Il Friuli Venezia Giulia partiva da zero sostanzialmente. Abbiamo consegnato loro questo prodotto, quindi 3.500 ettari, mentre in Veneto si partiva da una situazione consolidata e doveva con tutte le sensibilità del caso poter pian piano arrivare a quel tipo di produzione che è di 16.500 ettari, quindi non pochi. Ci arriveremo e avremo, come abbiamo sempre fatto, una strategia comune Veneto-Friuli Venezia Giulia. Di fatto però questa situazione rischia di danneggiare il mercato italiano e favorire i concorrenti internazionali. Se manca prosecco infatti il mercato sceglie altri vini. E anche la comunicazione perché nel momento in cui la comunicazione è un elemento importante, l'ho già detto anche in conferenza stampa, ma lo ribadisco, perché una cosa può fare l'istituzione, un'altra cosa può fare il consorzio con tutti gli associati, ma la comunicazione è determinante perché non venga drogato il mercato e perché non ci siano dei competitor internazionali che in qualche modo usufruiscono delle difficoltà.